Pochi i fedeli giunti alla messa tradizionale in lingua italiana di Loreto a Isola in occasione della festa della Natività di Maria. Sono quasi tutti esuli di Trieste fortemente legati alle loro origini. Io sono famiglia di agricoltori, venivamo sempre in compagnia da queste parti. La messa veniva fatta due volte alla mattina e due messe al pomeriggio. Poi si portava da mangiare un qualche cosa, si scendeva in questi campi qua sotto e si festeggiava tutti quanti assieme. Attilio De Lise è nipote dell'ultimo parroco italiano a Isola. Ha cercato di mantenere in vita queste tradizioni, questa si chiamava la Madonna Piccia, piccola, da non confondere con la Madonna di Ferragosto e con la Madonna Grande. L'auspicio, ha aggiunto, è che la tradizione non si perda. Io sono il più giovane, ho 75 anni, per capirci. Ma un giovane oggi c'era, il parroco triestino Sabadin, qui a Isola non a caso. Mio nonno era di corte d'Isola, quindi qui vicino e anche nel paese degli esuli dove io sono cresciuto, questo legame con la festa della Natività della Vergine Maria è sempre rimasto in maniera molto profonda nel cuore della gente. Per me, ha ribadito nel rito religioso, è un momento anche di riflessione. Mi aiuta a capire chi sono, mi aiuta a stare nel mondo, mi aiuta a guardare con la fiducia della mia storia anche a quello che è il mondo attuale, anche al futuro, quindi è un momento di grande gioia. In passato si portava a benedire la frutta di stagione, ma non solo. Per salute, perché la chiesa è stata messa qua, perché c'era un'epidemia che veniva da Pirano e si è finita qua, non è andata a Isola. E' seguita la messa in lingua slovena perché oggi ha ricordato il parroco Kobal e anche la festa della comunità locale di Jagodje do Brava. Ciao!